No ragazzi, non sto facendo un video documentario sugli insetti, ma vi sto seriamente mettendo in guardia da uno dei pericoli più incredibili, più pericolosi che potrebbe entrare da un momento all'altro a casa vostra e non è vostra suocera, ma le cimici da letto. Fidatevi che barattereste questi insetti con il recupero crediti. Cosa sono le cimici da letto? Sono dei piccoli insetti simili agli scarafaggi infestanti che occupano abusivamente casa vostra, ma soprattutto il vostro letto. E perché proprio il vostro letto? Perché proprio mentre voi state dormendo beatamente escono dall'insenatore del Matarasso, dove stanno riposando a scrocco e vengono a succhiarvi sangue lasciandovi le macchie rosse e si riproducono peggio dei vostri vicini e non se ne vanno manco sotto sfratto. Vi racconto la mia esperienza personale. Vivevo a Parigi, che a quanto pare è tipo l'habitat di queste cose e nel 2016 avevo una casa lì di ben 24 metri quadrati, cioè praticamente io vivevo in un loculo. Sono stato invaso da questi cosi e ho dovuto letteralmente buttare letto e matarasso. La notte, mentre dormivo, li trovo su di me e non capivo che cosa fossero. A me fortunatamente gli insetti non fanno senso, tanto che quando ne trovo uno qua dentro casa visto che siamo in campagna, io lo prendo e lo libero fuori. Ma questi sono tutt'altro che utili e amichevoli, praticamente un po' come la metà dei vostri conoscenti. Cioè voi pensate che nonostante abbia cambiato letto e matarasso, dopo un paio di mesi sono riapparsi questi cosi, ma fortunatamente riusciva a bloccare la loro voglia di accoppiamento? Come? Ogni giorno controllavo il letto, ve lo giuro ragazzi, proprio angolo per angolo. E se li trovavo, pace all'anima sua, mi dispiace, io sono per tutti gli esseri viventi, proprio li voglio tutti, tutti dai scarafaggi, dalle colombe, dalle moschie. Ma se volevo degli animali domestici non mi pigliavo le cimici da letto. Anche perché mica lavoravo per cambiare letto ogni tre mesi. Quando andate negli hotel, soprattutto nella regione francese, la prima cosa che dovete fare è controllare appunto in questa insenatura. Se vedete insetto e escrementi scappate a gambe elevatissime, dirai Chris, vabbè, ma sono in quell'hotel, mica il mio, chi se ne frega? No caro mio, perché verranno con te dentro la valigia nel viaggio di ritorno senza pagare manco un biglietto. E in pochissimo tempo ti tocca chiedere gli assegni familiari per quanto ne avrai in casa. Evitate di mettere le valigie accanto al letto dell'hotel e quando arrivate a casa vostra prendete tutte le cose, i vestiti, gli oggetti e infilatele dentro il freezer perché a quanto pare queste bestie di satana non sopravvivono alle temperature bassissime. Ma perché non possiamo mettere tutte le cose direttamente dentro la lavatrice, no ragazzi? Perché sopravvivono anche con l'acqua che Federica Pellegrini spostati se è una bimba con i braccioni. Se andate a casa di amici e vi dicono che li hanno avuti o che ci stanno combattendo prendete la prima scusa, inventatevela e scappate. Perché le cimici sono così, quando si pionono la vacanza vogliono emigrare in posti alternativi. Cioè sono avanti dei viaggi super low cost. Perché sto facendo questo video? Perché ragazzi vi giuro, io non vi auguro di vivere queste esperienze. Io ho vissuto un'esperienza terrificante, avere queste cose di sopra e poi trovarmi pieno di macchie, pieno di bolle, ragazzi ve lo giuro, cioè neanche lo auguro al peggior nemico. E non si tratta di essere sporchi o di essere puliti, ma si tratta solamente di sfortuna. Quindi condividete questo video che è importante, così lo fate vedere a tutti ed evitiamo che queste cose arrivano da... Perché a quanto pare sono arrivate a Milano. Cioè a noi ci mancavano solo le cimici. No, niente, tutto. No, è già che siamo terremotate, pure le cimici. Eppi maggi dugo, eppi aga panni pò... No, ragazzi, maggi, ubram, bram, maggi.